Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È una battaglia lunga quella che le associazioni ambientaliste portano avanti contro il metanodotto snab sul Mona Foligno. Tempo fa avevano chiesto al governo di bloccare il progetto. Ora arriva il via libera da parte della regione Abruzzo e monta la protesta. Il presidente Marco Marsilio spiega che la regione aveva il compito di riscontrare la compatibilità dell'opera sotto il profilo tecnico e amministrativo. Le conferenze dei servizi sono dei tavoli tecnici dove ogni ente coinvolto viene chiamato a rispondere a una precisa domanda. In quella sede ci era stato chiesto se in base alla normativa regionale quel progetto doveva essere o no depositato al genio civile per il parere sismico. La legge regionale non lo prevede e abbiamo chiarito in quella sede che per la regione questo deposito non deve avvenire perché si tratta di un'opera strategica di rilevanza nazionale, quindi statale. E per questa ragione, quindi su quell'aspetto, la regione non ha nulla da eccepire e quindi dà alla fine della riunione il proprio nulla osta alla prosecuzione del leader autorizzatorio. Il resto è solo propaganda fatta da partiti politici come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che hanno in mano il governo nazionale e invece di andare a Sulmona a fomentare i cittadini e a raccontare falsità scaricando responsabilità politiche sulla regione vadano in Parlamento a sfiduciare il loro ministro perché questo progetto è sostenuto dal governo, dall'attuale ministro ed era sostenuto anche dai governi precedenti perché l'autorizzazione alla centrale di spinta che è l'elemento di maggiore criticità e quello più avversato da una parte appunto delle amministrazioni e dei cittadini di Sulmona è stato autorizzato dal governo Gentiloni del Partito Democratico.